Benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, oggi siamo qui tornati su Fortnite, siamo qui perché domani, anzi scusate, per voi oggi perché sto registrando il giorno prima Inizierà l'evento del quinto compleanno di Fortnite Ragazzi già 5 anni mamma mia, io li ho giocati tutti e 5 gli anni Comunque oggi che è il 23, voi vedrete il video di mattina, lo faccio uscire adesso perché da questo pomeriggio, quindi dalle 15 di pomeriggio fino alle 15 del 27 Sempre settembre ovviamente, quindi avremo 4 giorni di tempo per fare queste missioni Perché in questo evento del compleanno arriveranno delle missioni, ovviamente come ogni anno, con dei primi gratis ma ora ve ne parlo E quindi avremo solamente 4 giorni, in questo evento durerà 4 giorni appunto dal 23 alle 15, quindi dalle 15 di pomeriggio del 23 settembre Fino alle 15 del pomeriggio del 27 settembre, ok? Quindi gli orari sono questi, ve li ripeterò anche dopo durante il video però comunque questi sono gli orari quindi segnateveli Come potete vedere la mia skin ha sulle spalle un bel piatto con una bella torta con il numero 4 E anche un bellissimo piccone, ne ho anche un altro nell'armadietto ma a me piace di più questo quindi lo tengo E poi tra l'altro ho anche un balletto apposta Comunque adesso in questo periodo voglio usare sempre queste decorazioni Consigliatemi ragazzi una skin qui sotto nei commenti da usare per fare una combo con questo zaino e questo piccone Perché visto che il compleanno di Fortnite ogni anno faccio sempre così, uso sempre le cose del compleanno Ogni anno ci sono sempre stati premi, il regalo In realtà non ogni anno, anzi no, ogni anno perché il primo anno di Fortnite è stato in season 5 del capitolo 1 Lì ci sono stati i primi premi Purtroppo lì si sbloccava la torta che ho adesso sulle spalle con il numero 1 Io purtroppo non ce l'ho, non facevo le missioni però gli ho giocati tutti i periodi del compleanno di Fortnite Mi ricordo quando c'erano, ovviamente le vedremo anche da oggi Le torte che erano nelle varie città, in ogni città c'era sempre un bel piattone di torta Con una bella torta gigante con delle fette di torta attorno che vi davano lo shield Me lo ricordo benissimo, mamma mia che ricordi Tra l'altro c'è anche il video sul canale perché questo canale io ce l'ho da, questo canale ce l'ho da più di un anno E questo qui è il secondo anno dove festeggiamo diciamo il compleanno di Fortnite qui sul mio canale Perché il primo è stato in season 4 Forse anche, no no regalo non me lo ricordo sapete perché in season 4 c'era il terzo anno, il terzo compleanno Quindi ne abbiamo già fatti due, questo sarebbe il terzo, regalo non me lo ricordo Comunque vabbè, questo dovrebbe essere il secondo maratazzo anno che faccio video durante il periodo del compleanno di Fortnite Comunque, che cosa ci sarà in regalo? Allora, posso dirvi la verità? Si sono leggermente sprecati nel senso In copertina magari vedrete delle ricompense, anzi credo che le avrete viste Ve le avrò messe tutte E si sbloccherà praticamente, vabbè, questo ogni anno il backpack che ho adesso sulle spalle Quindi una torta di compleanno con la fetta tagliata Ma con il numero 5 ovviamente Il colore della torta sarà arancione e azzurra Un colore abbastanza decente Non so perché questa scelta di colori avrei fatto altri Però vabbè ci sta Quindi ovviamente la torta colorata in modo diverso con il numero 5 Per poi avere anche il piccone, quello che adesso io lo vedete Eccolo qui, questo piccone qui Sempre con i colori arancione e azzurro E poi si sbloccherà anche uno spray In teoria sono queste le ricompense Tra l'altro questo si sbloccava due anni fa Guardate che, ve lo ricordate? Voi ce l'avete questo bellissimo balletto? Boom! E ti esplode la torta in faccia Bellissimo con i coriandoli poi alla fine Veramente veramente bello Ciao gallino Ops, mi dispiace Comunque Vedete per esempio qua ci sono i funghi per terra E quando c'è il periodo del compleanno In ogni città con il nome Di solito mettono sempre le torte giganti Questo bel piattone con la torta gigante Con delle mini fette di torta per terra Che le mangi e poi Ovviamente le mettono anche per Fare le missioni Perché le missioni richiedono anche di Ah, tra l'altro torneranno due oggetti In onore del compleanno Torneranno ovviamente i pacchi regali Quelli che ci sono sempre a Natale E anche i palloncini Infatti ve lo ricorderete che nella stagione 2 Del capitolo 3 I palloncini erano stati rintrodotti nel gioco Ma con la texture Tipo da militare, ok? Infatti li hanno modificati Li hanno rimessi normali Diciamo Come un tempo Quindi rosso, blu, giallo, verde, viola Quindi di colori tutti diversi Per appunto il compleanno Quindi da domani alle 3 Del pomeriggio Quindi dalle 15 del pomeriggio Avremo in gioco i palloncini Il pacchi regali E delle missioni richiederanno appunto Di lanciare ben 5 pacchi regali Questa è una missione Altra ovviamente di mangiare le fette di torta Più o meno sempre quelle sono le Le missioni ovviamente Oh tra l'altro qua c'è un bel bunker Wow Bello Era coperto da un tronco Vabbè Ha un sacco di segreti questa season Veramente bello Comunque Fatemi sapere cosa ne pensate Voi le farete le missioni Vabbè credo di sì Sono missioni gratis Tra l'altro Credo che Non lo so eh Questo non ve lo so dire Ma dovrebbero dare anche degli XP Le varie missioni Poi tra l'altro Fora in te siccome c'è Mi aspettavo qualcosa di più Visto che 5 anni Sono tantissimi eh Anche 4 Sono tanti Però 5 è un numero abbastanza Se ci sta 5 anni Bello Tanto Da 5 anni che io Rega gioco E shoppo E da invece da 3 Che porto video Comunque vabbè Ehm Come si dice Hanno praticamente Creato Un sito Che ancora non so se è attivo Ma c'è un sito Che ha creato Fortinet Che praticamente È un quiz Su tutte le cose Di fortinet Io magari lo farò Ci farò anche un video Ehm Cioè Lo farò Però forse lo farò Anche in un video Appunto Però nel senso Cioè Non danno nessuna ricompensa Sarebbe stato figo Se facevate questo quiz Su tutti i 5 anni Eh Non su sta season Su tutti i 5 anni Di fortinet E chi vinceva Magari Prendeva Ma anche cose banali È uno standard Magari sapete Gli standard Che ci sono in lobby Per dire Tu sei un giocatore Che ha giocato Scusate ho tirato Una botta al microfono Tu sei un giocatore Che ha giocato Tutte le season Di fortinet Che si ricorda tutto Bravo GG Cioè un qualcosa di Bello potevano farlo Ovviamente tipo io Rega so tutto Cioè nel senso Mi dite In che Pass Battaglia Era Come la skin Cioè So tutto Deste robe In che season È stata introdotta Quell'arma Le so L'unica cosa Che non mi ricordo Perché questo Raga Nessuno se lo può Ricordare E per esempio Se in alcune domande Ti chiedono Che quanto danno Faceva Il fucile d'assalto Nella stagione 6 Nel capitolo 1 Eh raga Queste lì Non me le ricordo mai Io i danni Raga Non ne so nessuno Mi ricordo solo Che la R La R Blu Di realtà blu Nel capitolo 1 Faceva la 66 in testa Solo quello Mi ricordo Non mi ricordo Nient'altro I danni Ragazzi Zero Non mi ricordo Nulla Quindi quella È l'unica cosa Su cui non sono preparato Il resto ragazzi Ho tutto Quindi potevano dare Un premio Perché almeno L'avrei vinto Ovviamente Comunque ragazzi Sono già 5 anni Mamma mia Mamma mia Mamma mia Tra l'altro Oggi Pomeriggio Siamo in live Quindi Giocheremo E finiremo tutte le missioni in live Perché oggi è venerdì Ve l'ho sempre detto Cioè ve l'ho detto Venerdì e sabato Siamo in live E anche sabato appunto Saremo in live Così giochiamo insieme Poi Una piccola cosa Che vabbè Non c'entra In questo momento Però ve la dico Perché ci tengo Martedì 27 settembre Sarò in live Usciranno Poi nel corso di quei giorni Tanti video belli Però In quel giorno Sarò in live Su FIFA 23 Non vedo l'ora Quindi Non mancate Se volete Vedere FIFA 23 Perché abbiamo un sacco di pacchetti Comunque Tornando All'argomento Del compleanno Se riesco Non so se le avete Vabbè Anzi Se riesco Vi metto delle immagini Io A schermo Ogni tanto Ma Ve lo ripeto Su PS5 Non ho nessuna foto Porca vacca Ho tutto su PS4 E non so come Come Mandarle Quindi L'account è lo stesso Ma non so come mandarle Cioè Non so in che modo Quindi Se riesco Vi metto delle foto a schermo Tra poco Comunque Ultima cosa Ragazzi Facciamo tutti gli auguri A Fortnite Per questi 5 anni Veramente Veramente Belli Direi che sono 5 anni Molto belli Siamo Chi è rimasto Per tutti Allora Ovviamente magari qualcuno di voi Volevo dire questa cosa Poi Basta Stacco Perché se no dura troppo il video Vi rompo le palle Chi è rimasto dall'inizio fino alla fine Per tutti i 5 anni È un grandissimo Gigachad Chi invece Ha iniziato a giocare E poi ha mollato È solamente Un pezzo di merda Quindi nei commenti Tutti Facciamo gli auguri A Fortnite Quindi Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Lasciate il like Commentate Condividete il video Con tutti i vostri amici Tra l'altro Il 23 Oggi Che vedete il video È il compleanno Di Fortnite E Tra Due settimane Il 7 ottobre Comunque È il mio Di compleanno Quindi Poi lì usciranno Delle cose belle Comunque vabbè Iscrivetevi al canale Ve l'ho già detto E niente Fortnite Buon compleanno Grazie per questi Benifici 5 anni